Scontro violento al GFVIP, Asia Valente scoppia a piangere dopo una lite con Valeria Marini per i piatti. Scopriamo cosa è successo. Nella casa del GFVIP la tensione continua ad essere altissima a causa dei litigi che oramai sono all'ordine del giorno. In particolare questa settimana è stata molto vivace, e si sono alternati litigi e divertimento. I concorrenti non si arrendono e sparano tutto quello che pensano. Noti ormai a tutti sono le litigate fra Valeria Marini e Antonella e Lila Brutto nel corso della diretta della scorsa puntata. Ma vi sono stati altri litigi che hanno causato altri scontri, come quello fra Asia Valente e Lamarini, poi fra Sossio Aguta e Tresanna Pugliese. Ma cosa è successo? Tresanna Pugliese è stato litigato, e Valeria Marini con Asia che cosa c'entra? Diciamo che le cose hanno avuto origine da uno scherzo, ed è bastato un piatto per far diventare molto arrabbiata la Marini. L'Asia Valente scoppia in lacrime dopo la lite con la Marini. Tutto tutto ha avuto inizio quando Asia Valente ha cenato e ha pensato di lasciare il piatto sporco e la cucina in una gran confusione. L'incuranza di quanto aveva lasciato Asia è andata nella stanza insieme a Paola e Fabio. Tutto non appena lei si è spostata dalla cucina e ha lasciato tutto sporco ecco che Valeria Marini ha perso la pazienza e ha sfridato Asia. La Valente non è riuscita a placare la furia di Valeria e ha provato a spiegarle che ancora non aveva finito. Ma non è stato possibile, la Marini era come impazzita e le ha ordinato quello che doveva fare. Asia si è sbocciata perché in fondo non era sua madre e non le poteva ordinare le cose con quel tono. Asia si è messa a piangere e ha cercato aiuto nei coinquilini che hanno assistito alla scena. Asia cerca supporto dagli altri inquilini quando la Marini era così infuriata che ha scaricato la sua rabbia tanto sudano che non aveva detto nulla su la lente. E così Valeria ha avuto modo di parlare delle pulizie da fare nella casa. Infatti pare che la Marini abbia molto a cuore l'igiene in casa e non si porta quando gli altri sboccano. Alla discussione si è aggiunta anche Trezanna, ma ormai Valeria aveva scelto su chi sfogarsi ed era Asia. Alla fine questa ha detto che se le dicevano cosa doveva fare lo faceva, ma non gridano. Di certo la convivenza nella casa del GF VIP è difficile, ma le prime donne hanno tutte un caratterino.